Il paletti che ha messo l'Europa e l'agenda del Green Deal europeo è stata fatta quando c'era un'altra situazione economica e quindi sociale e le scelte, solo gli stupidi, non cambiano idea o non adeguano le scelte. Io sono convinto che l'impatto della guerra ucraina e la scelta che l'Europa ha fatto su come combattere questa guerra ucraina abbia delle conseguenze, ha avuto delle conseguenze, avrà delle conseguenze. Se queste conseguenze ti portano a spostare gli obiettivi che hai fissato con il Green Deal, penso ad esempio alla CO2 e all'impatto della CO2 sui costi aziendali, se io al problema dell'energia aggiungo il problema della CO2, cioè le uccido doppiamente. Allora se io rimando di un anno o due il problema della CO2, stante il fatto che la produzione di CO2 europea rispetto a quella mondiale è tollerabile, non mi salta il principio del Green Deal. Per cui bisogna che ci sia una capacità anche europea, della burocrazia europea, di adeguarsi a cosa succede nel mondo, non puoi far finta che non sia successo nulla negli ultimi due anni. La frase del Manzoni e dei promessi sposi, no? Adelante, ma con juicio, si puedes, cioè come faceva dire il Manzoni, quindi si va avanti ma guardando quello che succede attorno.